Negli ultimi vent'anni abbiamo lavorato con un unico scopo. Sviluppare la lente fotocromatica più tecnologicamente avanzata e esistente sul mercato. Il nostro obiettivo? Rendere ancora più soddisfatti i nostri clienti. Abbiamo sviluppato Transitions Signature 7. Abbiamo creato una nuova tecnologia, Chromea 7, e sviluppato un nuovo metodo per testare le lenti fotocromatiche. Le vecchie lenti fotocromatiche vengono testate in laboratorio con misure statiche e artificiali. Non è solo una questione di chiaro e scuro, ma di differenti parametri. Quantità della luce, posizione di chi indossa le lenti, luce riflessa. Per questo le lenti Transitions Signature sono testate in situazioni reali. Più di mille test. Con le lenti rivolte verso il sole o meno. Con e senza cappello. In numerose località geografiche in tutto il mondo. E tutti questi test hanno confermato che le lenti Transitions Signature sono più reattive. Perché reagiscono ad uno spettro di luce più ampio. E sono meno sensibili alle variazioni di temperatura. I test hanno dimostrato che le lenti Transitions Signature sono più reattive ad alte temperature e dalla luce indiretta. Su più di mille test, le lenti grigie si sono dimostrate il 15% in media più scure e le marroni il 21%. In interni, il ritorno allo stato chiaro è del 20% più veloce. E sono state scelte come migliori dall'82% delle persone che le hanno provate e che prima indossavano lenti chiare. Il 97% dei partecipanti al test sono rimasti molto soddisfatti delle lenti Transitions. E due su tre hanno preferito Transition Signature 7 a Transition Safe. Transition Signature 7 Non solo produciamo prodotti migliori, miglioriamo la visione dei nostri pazienti.